Tornata la calma all'interno del PD, si ricompatta il centro-sinistra molisano a dichiararlo proprio il capogruppo PD in consiglio totaro unico a non firmare il documento con cui la maggioranza ha blindato il governatore Frattura. Intanto arriva dalla delegazione parlamentare un plauso all'aggiunta per la proroga dei contratti ai precari Asrem e centro per l'impiego. Ammonta oltre 248 mila euro la somma da destinare al fondo per il microcredito accantonata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Manzo e Federico. Deve essere la passione a spingere a fare politica e non il denaro, le parole degli esponenti pentastellati. Continua l'emergenza frane in regione con molti comuni che rischiano l'isolamento, diverse le richieste di aiuto che le amministrazioni hanno rivolto a provincia e regione. In serie D, molisane concentrate sugli incontri di domenica prossima a Campobasso, Termoli e Agnone sono alla ricerca della giusta continuità. In casa Isernia, dopo i festeggiamenti, si punta a programmare una nuova società per la prossima stagione. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete appena sentito, in apertura parliamo di politica. Il centrosinistra molisano torna compatto. Arriba dirlo proprio il capogruppo PD in Consiglio regionale, Francesco Totaro, che ai nostri microfoni ha chiarito le motivazioni della mancata sottoscrizione del documento della maggioranza a sostegno di Frattura, il cui operato non è stato mai messo in discussione, ha puntualizzato Totaro il servizio. Dopo il momento critico vissuto la scorsa settimana con tanto di scambio di battute al vetriolo a suon di comunicati stampa, sembrerebbe essere tornata la calma all'interno del centrosinistra molisano che ha confermato il proprio sostegno al presidente Paolo Frattura. Questo centrosinistra, con tutti i difetti e i pregi che ha, è unito e compatto con l'azione del presidente. Credo che discutere o meno sia tenere dentro una parolina che dica, che dà anche un po' di monito a chi invece pensa che la politica sia solo estemporaneità. Non è così. C'è un'azione mirata contro di noi, da parte di tanti soggetti diversi, perché probabilmente rimettere a posto i conti, impedire i privilegi, fare cose diverse, non è molto ben tollerato. Il Molise dei privilegi, il sistema Molise famoso, non è più quello di una volta, adesso è il sistema della correttezza. Non so se è il Molise di tutti compiutamente, perché molti errori si fanno, li facciamo anche noi. Poi i malpancismi ci sono sempre stati. Credo che qualcuno debba parlare meno oppure farlo seriamente quando lo fa e lavorare di più, per il bene di tutti e del Molise soprattutto. Supporto messo anche nero su bianco nel documento scritto a Palazzo Moffa. La maggioranza dunque torna a ricompattarsi, ma ora è tempo di un cambio di passo vero, le parole del capogruppo PD in Consiglio, Francesco Totaro, che ricordiamo quel documento che Blinda e Governatore non lo ha firmato. La mia firma non è mancata per una non condivisione del lavoro svolto rispetto al Presidente della Giunta, ma la mia firma non c'è stata per tre ordini di motivi che ritengo siano fondamentali. Il primo ordine di motivo è che non c'era nessuna difesa da fare al Presidente della Giunta della Giunta. Due, la seconda motivazione per cui non ho apportato la firma è dovuta al fatto che ritenevo troppo forte quel documento di attacco rispetto ai parlamentari che nulla avevano fatto, nient'altro che aprire un dialogo, una discussione sui problemi che ci sono e le evidenze che sono aperte. La terza motivazione ed ultima per cui è mancata la mia firma rispetto a quel documento è che ritenevo quel documento debole in quanto non è che i consiglieri regionali, l'Aggiundo, il Presidente e l'Aggiunta regionale debbano assumere difese personali o di gruppo. Le difese le devono fare i cittadini di questa regione. Dunque maggioranza compatta, possiamo confermarlo? Sì, maggioranza compatta, maggioranza che ovviamente deve cambiare passo, deve cambiare passo e deve cambiare metodo. Questo è quello che chiediamo noi, che chiedo io, che chiedono anche i parlamentari. Deve essere un metodo nuovo, allargato alla discussione, ai parlamentari, ai partiti che hanno contribuito alla vittoria del centro-sinistra e al mondo delle associazioni che sono presenti sul territorio di Molisano. Intanto, dopo il polverone sollevato, sembrerebbe che la delegazione parlamentare molissana abbia fatto un passo indietro, ribadendo di non avere nessuna volontà di provocare una crisi, ma solo di aiutare a risolvere quella in cui versa il Molise. E un plauso alla giunta regionale arriva proprio dalla delegazione parlamentare del PD. L'approvazione all'unanimità della legge regionale con la quale viene salvaguardata la continuità lavorativa ad oltre 500 dipendenti ASREM a un elevato numero di dipendenti dei centri per l'impiego. Si legge nella nota congiunta di Leva, Ruta e Venitelli e la misura straordinaria messa in campo dal PD per contrastare la crisi occupazionale reddituale che stringe ancora il Molise. Proprio le tematiche della disoccupazione, diritto alla salute e a una vita dignitosa saranno affrontate dai parlamentari nel corso della conferenza stampa che si terrà il prossimo venerdì nella sede del PD in via Ferrari. Taglio ai costi della politica, missione compiuta per gli esponenti del Movimento 5 Stelle Molise, Manzo e Federico che decurtandosi parte dello stipendio hanno accantonato una somma considerevole da destinare al fondo per il microcredito, il servizio. A Monta 248.130 euro la somma che i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo e Antonio Federico hanno accantonato dall'inizio della legislatura. Deve essere la passione a spingere a fare politica e non esclusivamente il dio denaro hanno puntualizzato gli esponenti pentastellati di Palazzo Moffa che hanno voluto dimostrare ai propri elettori e alla cittadinanza con fatti e non con parole come poter fare ottimamente politica con i monumenti molto meno nerosi per le casse pubbliche. Per noi la battaglia sulla riduzione dei costi della politica è stata sempre una priorità. Adesso ci siamo riusciti, stiamo facendo vedere che comunque si può fare politica con passione e che effettivamente non abbiamo la necessità di guadagnare 8.000 euro netti in busta paga al mese. Noi abbiamo restituito fino adesso 248.000 euro, oltre 248.000 euro, grazie a un nostro emendamento l'istituto della rinuncia e legge, per cui abbiamo aderito anche all'istituto della rinuncia in modo da avere una busta paga da 5.000 euro l'orde. La somma sarà destinata al fondo per il microcredito. Abbiamo fatto il nostro secondo bonifico per un totale di 248.000 euro alla Regione chiedendo di destinarli al fondo del microcredito. Ovviamente speriamo che non ci siano problemi da parte della politica ma crediamo che è una volontà di tutti i cittadini, una volontà di due consiglieri che rinunciano a parte dello stipendio per destinarla al microcredito e quindi dare la possibilità a tanti giovani che magari vogliono aprire un'impresa propria e speriamo che non ci siano problemi in questo senso. Comunque noi vigileremo sul bilancio di provisione. L'iter amministrativo per arrivare all'obiettivo non è stato certo semplice. La mancanza di una norma che disciplinasse l'istituto della rinuncia e l'ostruzionismo della burocrazia amministrativa hanno creato non pochi ostacoli. L'istituto della rinuncia è stato finalmente normato e oggi la busta paga effettiva dei consiglieri Manzo e Federico è di 5.000 euro lordi dunque molto più leggera di quella degli altri colleghi consiglieri regionali che possono però sempre seguire il loro buon esempio. Ecco quindi l'istituto come l'istituto della rinuncia è stato normato tutti gli altri consiglieri possono rinunciare a parte dello stipendio. Certo è un articolo sulla legge 10 del 2013 sulla riduzione dei costi della politica voluta da Monti pertanto ecco tutti i consiglieri se vogliono possono rinunciare a parte del proprio stipendio. Meglio tardi che mai. E si è svolto ieri mattina a Palazzo Chigi il confronto tra la Regione Molise e il Governo sull'impugnativa dell'articolo 6 della legge di assestamento del bilancio 2014. Petraroi ha aperto la riunione illustrando l'azione istituzionale di riordino dei conti pubblici con la stipula degli accordi di programma quadro per la ricostruzione post-sisma e con l'avvio della riduzione degli enti sub-regionali. Piena convergenza delle parti sulla proposta di emendamento legislativo concordata con la Commissione Affari Istituzionali avanzata dal Vicepresidente dell'Aggiunta. Un percorso, quello designato ieri con il segretario Bressa che in un arco temporale limitato consentirebbe di spalmare su più esercizi di bilancio l'azzeramento del debito da 60 milioni di euro risalenti all'Aggiunta Iorio. Torniamo ora a parlare di dissesto idrogeologico. In Basso Molise diversi comuni rischiano l'isolamento. Infatti se ha petacciato l'emergenza viabilità sembra essere rientrata. Ci sono ben 5 paesi che fanno i conti con strade impraticabili. Proprio per questa ragione gli amministratori hanno chiesto aiuto a provincia e regione. Servizio. Il maltempo delle scorse settimane ha riportato alla luce in Molise l'emergenza a Frane. Sicuramente lo smottamento di petacciato è quello che ha destato maggiore preoccupazione interessando arterie regionali e anche nazionali. Proprio nel comune basso molisano però ora la viabilità sembrerebbe essere tornata alla normalità grazie a piccoli interventi tampone che nell'immediato hanno chiuso le varie falle aperte dalla Frana. Ma vista l'assenza di denaro da parte della provincia e della regione il comune di Petacciato mira a far inserire lavori di ristrutturazione post-Frana nel decreto sblocca Italia del governo Rezzi che punta ad avviare migliaia di cantieri in tutta Italia. Ci sono però anche altri comuni in piena emergenza in basso molise in particolare nel comprensorio di San Felice, Castelmauro, Acquaviva, Montemitro e Montefalcone del Sagno. Infatti i sindaci hanno lanciato un appello al governatore Frattura, al presidente della provincia De Matteis e al prefetto di Campobasso attraverso una lettera aperta in cui evidenziano la condizione delle strade devastate dalle frane. Abbiamo problemi con le due strade di accesso principale. C'è la strada provinciale che viene da Montefalcone interessata da una frana che si è accentuata nell'ultimo periodo. Poi ultimamente anche la strada che scende con la Trignina ha avuto una frana che si è innescata a seguito degli eventi degli ultimi giorni. La regione è stata informata di questo attraverso una ricognizione. Cosa si intende fare? Sì, abbiamo già segnalato alla regione ma anche alla protezione civile e alla prefettura di Campobasso la presenza di queste situazioni di criticità. Il presidente Frattura e la giunta regionale si è impegnati a chiedere lo stato di calamità naturale e adesso aspettiamo l'evolversi della situazione. Inoltre gli amministratori hanno segnalato in particolar modo il pericolo sanitario dovuto al difficile raggiungimento del servizio di primo soccorso del 118 e hanno rinnovato l'invito a verificare di persona lo stato dei fatti e a prendere gli opportuni provvedimenti al fine di evitare la chiusura delle strade provinciali e di conseguenza l'isolamento dei comuni. Passiamo alla cronaca. Sono quattro le persone indagate con le ipotesi di reato di omissione di soccorso per la morte del detenuto 34enne deceduto la scorsa settimana nel carcere di Campobasso in seguito a un malore. Il sostituto procuratore Rossana Venditti è scritto sul registro degli indagati i nomi degli operatori sanitari che lavorano all'interno del penitenziario. Come noto, l'ipotesi sulla quale si lavora è quella di possibili ritardi nei soccorsi all'uomo. Ancora cronaca dall'Olanda a Larino sotto due francobogli. E' questo il metodo scelto per inviare una piccola quantità di marijuana in Molise. Ma il rigonfiamento è stato notato da un postino. Le due cartoline sono state bloccate all'ufficio di smistamento della zona industriale. Immediata la comunicazione alla polizia che ha avviato le indagini. Qualcuno ha voluto mandare un piccolo assaggio di marijuana a un amico incollando lo stupefacente sotto i francobogli il commento degli agenti. Ci spostiamo ora a Larino dove il comitato contro le camorre ha organizzato un nuovo sit-in di protesta al centro del presidio, l'eolico selvaggio di Montecilfone, il centro hub di San Giuliano di Puglia e la discarica di Montagano. Nell'occasione sono stati depositati due esposti alla procura frentana. I dettagli nel servizio. Eolico selvaggio di Montecilfone, centro hub di San Giuliano e discarica di Montagano sono questi gli argomenti che hanno riportato a Larino il comitato contro le camorre. Infatti Emilio Isio e compagni hanno voluto attraverso un sit-in di protesta davanti il tribunale frentano rilanciare la propria battaglia in difesa del territorio regionale. Uno è relativo alla questione eolico e l'integrazione va a spulciare un po' quelle che sono le situazioni che in qualche modo metterebbero in correlazione alcuni proprietari terrieri con quelle che sono alcune immagini, immaginiamo noi, possibili collegamenti con amministratori e tecnici. E questo ovviamente. Poi prepariamo questo esposto denuncia per la questione della discarica di Montagano che è un'altra questione veramente inquietante. C'è un fronte di frana che ormai nel giro di un mese è calato di altri 20 metri e si capisce perché? Perché lì c'è infiltrazione del percolato insomma che sta inquinando le falde e di fatti noi questa mattina presenteremo le analisi che il buon professor Rocco Cirino con la sua associazione ha fatto fare a proprie spese e dove dimostriamo che ci sono metalli pesanti e c'è di tutto e di più ovviamente. I metalli sono quelli che ci preoccupano di più ma c'è tanto altro materiale. Quindi questo è uno dei punti. L'altro è San Giuliano, noi siamo stati nelle stanze del prefetto e lui era preoccupato come noi però dice io ormai questa convenzione l'ho firmata ma stiamo scherzando insomma. Dunque la visita a Larino è servita anche per sottoporre agli inquirenti due nuovi esposti denunce il primo relativo ad un'interessante integrazione sulla questione olico selvaggio di Monte Cilfone il secondo riguardante il centro di accoglienza hub di San Giuliano di Puglia e retroscena in odore di malaffare oltre che i dati sull'inquinamento da metalli pesanti nei pressi della discarica di Montagano. È un appello verso la ripresa del lavoro nella regione quello del presidente di Confindustria Molise Mauro Natale che con le sue parole ha denunciato l'atteggiamento anti-industriale che caratterizza oggi la regione. Natale ha invitato inoltre i sindacati ad avere una giusta attenzione per tutte le figure professionali e in particolare per i lavoratori molisani attualmente disoccupati unione e collaborazione tra Confindustria, sindacati, lavoratori e la cosiddetta società di mezzo affinché si possa arrivare ad un tessuto industriale sano in aziende che non hanno conti in rosso e che non sono drogate con le risorse pubbliche improprie questa la richiesta del presidente Mauro Natale. E torniamo ora a parlare di costi della politica a trattare l'argomento l'esponente del guerriero Sannita Giovanni Muccio che ha chiesto ai politici di onorare gli impegni assunti e decantati in campagna elettorale. Su tutti un chiaro invito a dimezzarsi l'indennità è stato rivolto al consigliere regionale con delega alla caccia Cristiano Di Pietro. Sentiamo. Un fiume in piena il guerriero Sannita Giovanni Muccio polemico con la classe politica regionale in particolare con il consigliere delegato alla caccia Cristiano Di Pietro che non avrebbe messo lo stesso impegno profuso invece nella risoluzione delle problematiche causate dai cinghiali nel dimezzamento dei costi della politica. Ma io voglio partire da un presupposto e voglio fare un riferimento per quanto concerne l'impegno costante di Cristiano Di Pietro per quanto riguarda la problematica che ne rende i cinghiali. Stessa cosa non vedo questo impegno da parte di Cristiano Di Pietro per quanto concerne l'indemizzamento dell'indennità dei consiglieri regionali e per quanto concerne l'abolizione degli enti inutili. Tutti sapete il movimento ha sempre appoggiato l'Italia dei Valori con la propria lista a livello provinciale, a livello nazionale. Quello che volevo dire è che a un certo punto mi sono accorto che sono state solo belle parole però nei fatti ho visto ben poco. Non si può ignorare la legge di iniziativa popolare che ha raccolto se Mila Firme ha continuato Muccio che ha poi concluso la sua conferenza stampa rivolgendo un appello a Cristiano Di Pietro, al presidente Frattura. Allora io voglio fare un appello a Cristiano Di Pietro di non interessarsi tanto a ricercare all'interno del consiglio regionale eventuali consiglieri regionali disposti a fare il salto della guaglia per sopportare nell'eventualità Paolo Frattura avreste bisogno. Caro Di Pietro, caro Paolo Di Laura Frattura il cittadino si allontana dalla politica i cittadini in questo momento particolare storico che vivono in una situazione di drammaticità dove molte famiglie stendono a mettere un piatto in tavola sapete cosa pensa di noi, anzi di voi perché io non prendo soldi? pensa che siete una casta, che vi siete messi in un castello dorato su una collina mentre avvale la gente e non ha che cosa mangiare. Rilancio dell'edilizia attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio molisano questa la proposta del presidente Acem Corrado Di Niro la politica deve avere una visione programmatica sul futuro della regione premere sui punti di forza che ciascun'area è in grado di offrire ha sottolineato il presidente un appello, quello di Di Niro volto alla risoluzione della crisi che ha colpito anche il settore edilizio c'è speranza per una ripresa aggiunto Di Niro, il settore infatti connotato dal carattere della trasversalità sia perché è uno dei volani del sistema economico sia perché può risentire favorevolmente dell'attuazione di politiche strategiche ha poi concluso il presidente dell'Acem Cambiamo argomento si conclude oggi il Vinitali di Verona la quattro giorni dedicata al mondo del vino e dei distillati per i produttori molisani una preziosa occasione per incontrare il mercato italiano ed estero soddisfatto l'assessore regionale Facciolla che ai nostri microfoni confessa quello molisano è tra gli stand più belli il servizio Anche quest'anno il Molise ha risposto ampiamente all'appuntamento fieristico internazionale di Verona parliamo dell'importante vetrina del Vinitali che in questi ultimi anni ha sempre dato al Molise il giusto riconoscimento ma in questa edizione ci siamo superati le parole pronunciate con una punta di orgoglio dall'assessore regionale alle politiche agricole Vittorino Facciolla quest'anno abbiamo fatto un pass in avanti fantastico le aziende sono ospitate in uno stand della regione a Modernato insieme ad Union Camere e abbiamo un biglietto da visita per nulla male è uno degli stand più belli dell'intero padiglione dei diversi padiglioni di Vinitali è chiaramente un bel biglietto da visita le aziende sono molto contente hanno insieme alla regione intrapreso un percorso di promozione dei prodotti nostri, il nostro prodotto d'eccellenza virtuoso e dico anche molto più attento alle indicazioni comportamentali che il mercato vuole quest'anno per la prima volta abbiamo fatto il Pro Wine a Düsseldorf insieme all'azienda molisana prima ancora abbiamo fatto il salone del gusto stiamo cercando di fornire all'esterno un'immagine della regione molise molto più dinamica, attenta è capace di intercettare i flussi che il mercato di volta in volta chiede che vi siano mi sembra una soddisfazione da manifestare quella della regione che trova la sua rispondenza nella soddisfazione che hanno gli operatori del settore che partecipano in maniera importante a queste manifestazioni e cominciano a trovare dei riscontri alla qualità dei loro prodotti Il Molise ha una nuova legge regionale che tutela le manifestazioni storiche e popolari come le carresi e avrà un osservatorio tutto proprio per preservare il benessere degli animali con la legge approvata in aula ieri sera dichiarato l'assessore alle politiche agricole e forestali la regione consegue l'obiettivo imprescindibile di valorizzare il patrimonio immateriale diritti religiose e feste popolari diffusi sul territorio con particolare riferimento alle carresi dei comuni di San Martino in Pensilis Ururi e Porto Cannone Il Molise dunque disporrà di uno strumento legale chiaro e preciso che non soltanto disciplina i percorsi e la ritualità delle carresi ma tutela anche la salute degli animali coinvolti nelle manifestazioni e dopo questa notizia apriamo la nostra pagina sportiva archiviata la gara con la maceratese il campo basso è ora proiettato alla trasferta di Giulia Nova con l'intento di tornare a fare risultato in trasferta a termoli l'umore dei migliori nei giallorossi matura sempre di più la consapevolezza che la salvezza diretta sia alla portata dispetto delle grane societarie l'Olimpia agnonese invece ha bisogno di vittorie per uscire dal tunnel Il servizio La prestazione positiva del campo basso nell'ultima gara con la maceratese i tre punti conquistati qualche giorno prima con il Matelica hanno contribuito in casa rosso-blu a superare il periodo negativo in cui il lupo era incappato nelle scorse settimane i playoff sembrano al sicuro con un più 6 sulle inseguitrici Matelica e Civitanovese ora però c'è da superare il test da trasferta infatti gli uomini di Vullo hanno curato le ultime scarse prestazioni esterne con la medicina di buone gare a Selvapiana Domenica Giulianova sarà un crocevia significativo per capire se il lupo è guarito intanto la squadra è al lavoro agli ordini di Mr. Vullo e del suo staff tecnico i rosso-blusi sono allenati sul sintetico dell'antistadio Selvapiana a parte solo Riccardo Lazzarini tornato a correre dopo il problema muscolare che l'ha tenuto ai box nelle ultime settimane dunque se a campo basso l'umore è buono il rival adriatico è ottimo nonostante i noti problemi societari i nove punti nelle ultime tre gare sono un bottino prezioso per il Termoli Di Meo sta lavorando benissimo più di così davvero non si può chiedere la salvezza diretta dista quattro lunghezze e non sembra un tabù per i giallorossi la corsa del Termoli è sulla Re Canatese più che sul Castelfidardo intanto il prossimo weekend potrebbe regalare altre gioie perché al Cannars arriva una miternina in evidente difficoltà reduce dal pari casalingo contro un agnonese senza cinque titolari parlavamo di agnonese e del pareggio ottenuto a Pizzoli domenica scorsa bottino magro che lascia gli altomolisani nelle sabbie mobili dei play-out anche se ottenuto in una situazione di vera difficoltà e sì perché l'Olimpia non è solo alle prese con le squalifiche di Ibe, Petrone e Litterio ma anche con diversi acciacchi che hanno ridotto all'osso la rosa granata il difensore Lattarula ha un problema muscolare infortuni alla mano invece per Vescio che è monitorato costiantemente dallo staff medico non sta benissimo neanche Pagliuca che ha lamentato un affaticamento muscolare insomma la situazione è tutt'altro che positiva ma c'è tempo per recuperare gli acciaccati e preparare al meglio la gara di domenica contro il San Nicolò Donatelli inoltre potrà contare sul rientro dell'attaccante Cantoro che ha scontato il turno di squalifica per l'espulsione rimediata contro la Iesina E in casa Isernia continuano i festeggiamenti per la promozione in Serie D il centrocampista Vincenzo Mingione ha eloggiato il gruppo dei Bianco Celesti e si augura che a breve si possa formare una società in grado di dare certezze per il prossimo anno in servizio In casa Isernia l'umore alle stelle in seguito alla riconquista della Serie D dopo un anno di purgatorio una vera schiaccia sassi la formazione di Mister De Bellis che in questa stagione ha dominato il campionato dall'inizio alla fine merito sicuramente di un grande gruppo formato da 20 ragazzi ben assortiti tra loro Siamo un gruppo davvero fantastico l'abbiamo dimostrato domenica dopo domenica questa vittoria di tutti dalla città, dei tifosi, della dirigenza speriamo che faccia qualcosa e soprattutto per noi giocatori Ma conquistata la Serie D terminati i festeggiamenti ora si apre un altro capitolo in casa Isernia quello legato alla creazione di una nuova società e da cui i giocatori possano trovare delle solide certezze per programmare la prossima stagione La speranza è l'ultimo a morire come si dice in certi casi speriamo che ora la città imprenditori Sernini danno una svolta a questa a questa annata bellissima che abbiamo fatto e che daremo la nostra anche in Serie D Intanto proprio sul fronte societario sembrerebbe da alcuni rumor se essere pronta una cordata di 15 imprenditori Sernini interessati a rilevare la società per garantire una stagione in D senza patemi d'animo dunque non resta che attendere e capire se la città di Sernia ha la forza e le possibilità economiche per imporsi anche in un campionato diverso da quello regionale Ed ora passiamo al nuoto c'è ancora Cristiano Antioglu ad illuminare la spedizione territoriale nella seconda e penultima giornata della sessione maschile dei criteri a giovani l'invernali di nuoto in vasca corta che termineranno oggi a Riccione Dopo quello sui 50 d'orso il portacolori dell'Hidrosport allievo di Tonio Oriente ha conquistato un secondo bronzo questa volta sui 100 sempre stile d'orso dal nuoto all'atletica il termolese Filippo Cantore ha conseguito la laurea specialistica nel fondo, mezzo fondo, maratone e marcia con una valutazione di tutto rispetto con questa laurea commenta la Runners Termoli Filippo Cantore entra a far parte dell'Olimpo dei Tecnici con il massimo livello di specializzazione una qualifica che da un lato certifica competenze tecniche di elevato profilo e dall'altro un'assunzione di responsabilità seria è marcata nella programmazione degli allenamenti di atleti d'élite e con questo è tutto grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV vi lascio ora le previsioni del tempo arrivederci il meteo è offerto da dal 24 febbraio al 30 aprile Harlem Design presenta Svuota Harlem 1500 metri quadri di fuori tutto 1500 motivi per fare affari togli le ultime occasioni su tutti gli arredi in esposizione Svuota Harlem è semplice guarda, tocca e porta a casa ti aspettiamo nello showroom di Vinchiaturo anche la domenica pomeriggio vieni con tutta la famiglia questa primavera da Harlem Design il risparmio è di casa HarlemDesignarredamenti.it seguici anche su Facebook Previsioni del tempo per giovedì 26 marzo cielo irregolarmente nuvoloso su Puglia, Basilicata e Molise nella prima parte della giornata con occasione per qualche locale acquazzone dalla serata un nuovo fronte instabile porterà piogge o rovesci su tutti i settori ventilazione tesa dai quadranti sud orientali con mari generalmente mossi o molto mossi temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi Campobasso minima 7, massima 18 gradi Isernia minima 8, massima 15 gradi Termoli minima 12, massima 15 gradi Il meteo è stato offerto da Dal 24 febbraio al 30 aprile Harlem Design presenta Svuota Harlem 1500 metri quadri di fuori tutto 1500 motivi per fare affari Cogli le ultime occasioni su tutti gli arredi in esposizione Svuota Harlem È semplice Guarda, tocca e porta a casa Ti aspettiamo nello showroom di Vinchiaturo Anche la domenica pomeriggio Vieni con tutta la famiglia Questa primavera da Harlem Design Il risparmio è di casa HarlemDesignArredamenti.it Seguici anche su Facebook Anche la domenica pomeriggio è di casa